Prima di sciogliere la riserva ha chiesto un nuovo faccia a faccia col governatore Vendola. L'assessore Gentile lo ha incontrato a Trinitapoli per tranquillizzarlo. La candidatura in Europa non lascerà sguarnita la postazione dell'assessorato alla sanità. Sarà rispettato alla lettera il richiamo del presidente, assicurare continuità e impegni già presi, riservando i comizi di sera o nel fine settimana. Ma la passionaria di Cerignola era già immersa nella corsa verso Bruxelles alla Convention dei Democratici sulla Sanità. Andare in Europa ha confidato e chiudere in bellezza la carriera politica vissuta sotto il segno di Vendola più che del PD. C'è il rischio di un ticket problematico con il segretario del partito Emiliano che potrebbe forse rimetterci da questa sua candidatura? Io lo escludo. Mi viene riconosciuto un ruolo, un'autorevolezza che nessuno può mettere in discussione. Il mio sarà un contributo ritengo prezioso. Emiliano è ingoiato il rospo superando le perplessità mostrate sull'investitura last minute, uno sgambetto dei dalimiani, forse in asse proprio con Vendola, ma davanti al microfono il sindaco di Pari fa buon viso a cattivo gioco. Io chiederò a tutti coloro che intenderanno votare me di votare anche Elena perché è giusto che ci sia una deputata europea, che ci sia la parità di genere effettiva e credo che tutti quanti siamo molto contenti di questo passaggio.